Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Sino alle 21 saranno possibili disagi sulle linee di Trenitalia per uno sciopero. La protesta comunque va sottolineato. Non interessa le linee di Atac, Roma TPL e Cotral. Le altre notizie, oggi e domani orario lungo per le metropolitane con le ultime corse da capolinea all'1.30 di notte. Sempre oggi e domani sospesi lavori serali. Sul metro A il tramotto resterà sui binari sino alle 3 di notte.